ultima direzza della giornata sto per andare a fare una serata in quelle di sassuolo e stavo guardando questa notizia che ha pubblicato già luigi sul paragone punto it notizia molto molto interessante che alla quale dico che bello ci godo ci godo perché vannacci noi il signor vannacci generale vannacci ha querelato ha querelato un vecchio personaggio del pd conosciuto ve lo ricorderete il caro bersani no bene querelato da vannacci querelato perché vanno perché alla festa dell'unità bersani avrebbe offeso il generale in modo indegno e non ha querelato in verità solo lui ma anche altri personaggi bene concordo concordo assolutamente e in questa querela ha fatto benissimo dobbiamo iniziare forse a far così cioè quando i pidini hanno questo vizio di offendere di pensare avendo la magistratura dalla loro parte di poter dire tutto quello che vogliono e quando così non è è giusto ho fatto vannacci mi faccio i complimenti pubblicamente per quello che hai fatto ho fatto bene a querelarlo e penso che dovremmo prendere l'esempio tutti no quando ci offendono anche nel web riceviamo delle offese da quegli haters che poi haters non sono sono semplicemente esponenti o personaggi o sostenitori del partito democratico che sono abituati a gestire le conversazioni offendendo gli altri bene dal momento che noi non offendiamo gli altri non ci limitiamo a esprimere dei pareri e per lo più educati e neanche arrabbiati o qualche volta mi arrabbio è vero però mi arrabbio limitatamente a un'educazione che deve esserci di rispetto nei confronto degli altri bene vannacci ha detto mo ti querelo l'ha fatto ha dato in mano ai suoi avvocati la querela e ha querelato pierluigi bersani quindi io sono sono contento sinceramente sono contento e ha fatto benissimo quindi sostegno a vannacci vi metterò il link così potrete leggere l'articolo e tutte le motivazioni del caso e che dire prendiamo l'esempio amici prendete l'esempio quando vi offendono quando qualche pidino qualche qualche personaggio e vi offende vi offende perché ha come uso e costume il ha proprio l'uso e costume di offendere gli altri quando sono i primi a cantare per a cantare rispetto non loro cantano canzoni di rispetto loro chiedono rispetto alle persone e lgbt e quant'altro poi in verità sono i primi che offendono e che non rispettano le idee altrui quindi assolutamente cosa bello l'impetto da carlo clemente bolle che c'è stata fatta una querela giustissima da parte di vannacci a quei personaggi che hanno come uso e costume quello di offendere gli altri bene lo farà anche io l'ho già fatto in verità l'ho già fatto l'ho già querelato qualcuno io ho l'avvocato guglielmo mossuto che quando quando arriva la mia chiamata sa che deve querelare qualcuno è assolutamente giusto farlo e come l'avvocato minelli che dopo chiede danni civilmente ho due avvocati molto bravi quindi amici sono felici sono felice per quello che ha fatto vannacci che ha dimostrato ulteriormente di essere un uomo con le palle grande vannacci condividete la notizia un colossale rispetto a voi dice vasil ciao vannacci e perdonami il generale parliamo del generale parliamo del generale e vabbè vi voglio bene ciao a tutti e buona buona serata ciao ciao ciao